La terza è l'obiettivo di coscienza, che meriterebbe probabilmente un convegno apposito da parte dell'ordine dei medici, sia in generale e sia quella specifica sull'aborto. Faccio notare, perché è difficile di molte cose, la legge italiana prevede che su 380.000 credo siano i medici italiani, autorizzati a fare gli aborti siano 5.000, i ginecologi ospedalieri. Poi c'è una vicenda sul consultoriale mai applicata in 40 anni, quindi questo fa sì che già c'è un problema, che non è legato tanto all'obiezione di coscienza, quanto è legato anche, perché se la percentuale dell'obiezione di coscienza fosse il 90%, ma potessero farlo come in Francia i medici di base, in Francia pochi medici di base fanno l'aborto, quello medico eccetera, i problemi sembrano molto risolti. Il secondo punto è la 194, che è l'unica prestazione italiana che si fa solo nel pubblico e solo in ospedale. È vero che si può fare in cinese autorizzate, ma è una cosa molto particolare e dove lo fanno è addirittura fuori legge, però tollerato perché altrimenti non lo fai, sono poche regioni. Non esiste questo, tant'è vero che il legislatore quando ha fatto la legge 40 ha impostato nello stesso modo per quanto riguarda l'obiezione di coscienza, ma la legge 40 si può fare in tutti, dappertutto, privatamente, in intramenia, chi la fa è custode gelosa della propria cosa, nessuno, avete mai ascoltato una polemica sull'obiezione di coscienza della legge 40? No. Oggi a fare gli aborti in Italia dovremmo essere in 1481 e poi arriverò dopo, a fare la fecondazione assistita non sono più di 400 ginecologi, compresi quelli privati. Però, se vedete la dimensione della polemica, lasciamo perdere, la legge 40 sta smontata pezzo per pezzo da sentenze, questo dà un quadro che vi sembrava opportuno darlo. In più vi ho dato all'entrata, chi l'ha preso, le informazioni che attualmente diamo alle pazienti al Sant'Anna, molti aspetti sono sintetizzati sia nella procedura nostra sia gli aspetti legali e quindi salto eventualmente in tutte le parti. Questa la metto quasi sempre per ricordare che oggi il 25% della popolazione mondiale vive in posti in cui l'aborto è fortemente limitato. Ovviamente sono molti più paesi rispetto a quelli che sono gli stati, la popolazione perché Cina e India, che la sole fanno un quarto della popolazione mondiale, l'aborto è legale. Faccio sempre notare, andiamo a quella dopo, questa è l'Europa, a parte l'Irlanda che dopo l'ultimo referendum in condizioni di internet e social presenti è stato vinto, non dico a sorpresa, ma era stato perso pochi anni fa di pochissimo, è stato stravinto adesso in Irlanda. L'Inghilterra è messa in questa condizione come anche altri paesi di origine anglosassone perché in molte legislazioni, quasi tutte le legislazioni europee sono più restrittive di quella italiana, quella inglese è più restrittiva, nonostante questo il senso comune non puoi fare l'aborto in Italia e vai in Inghilterra. In realtà in Inghilterra la donna non decide, la donna chiede di poter abortire, due medici decidono che nel suo migliore interesse è bisogno fare l'aborto. Dopodiché la funzione, cosa succede che in Inghilterra? Che il quasi 70% degli aborti sono fatti privatamente, io dico privatamente e con un tono di provocazione, potrei dire in strutture del buon tratto sociale, sarebbe diverso il termine, alcune associazioni che hanno molti centri, adesso quello che gestisce l'Irlandesi avrà un po' di difficoltà economiche perché gli mancherà il flusso degli irlandesi, da sempre se uno vuole se lo fa rimborsare, se non vuole no, ma il fatto che privatamente si possa fare come in tutti i paesi europei, questo fa sì che settori medici se ne occupino, di solito fanno anche fecondazione assistita, altre cose, piccoli interventi di stessi medici e garantisce una presenza, garantisce la copertura territoriale, cosa che invece in Italia questa forzatura di mediazione dell'ora è stato il collo di bottiglia che in qualche modo ha creato, crea le polemiche più che la realtà, perché l'altra novità è che in aborto, gli aborti in Italia si sono fatti, quando sento dire che con molta leggera lettera in Italia è difficile abortire, si fa problemi, sì, uno di voi che oggi arriva a casa, trova la nipote, dico nipote perché vedo che la nipote di voi sembra una mia, incinta, è preso dal panico nel momento di dire nonno cosa faccio, perché chiaramente al massimo può dire telefono aviale, oppure va a Sant'Anna o va al consultorio, però la maggior parte dei medici di base quando la signora la chiede di abortire le danno una ricetta con scritto di VG, quelle rosse e la mandano in giro a perdere tempo, ed è normale che sia così, però gli aborti in Italia sono sempre fatti e quando non si sono fatti pochi casi di cronaca venuti era colpa esplicita di chi doveva farli, ma non dei medici obiettori, dei medici non obiettori che non fanno gli aborti in determinate condizioni. Mezza Italia non fa gli aborti se il fetto non è malformato dopo i 90 giorni, cosa che la legge non lo prevede assolutamente, e scaricano sulla donna o sull'utente l'onere di provare il contrario, la quale però con tempi eccetera trova soluzioni come può, se le va bene dicono vada a Torino qualche volta o vada all'estero dando tutti gli indirizzi come fanno per la fecondazione assistita, dove a ogni difficoltà si danno e faccio notare che i principali centri ormai in Europa, in Grecia, ma anche nell'est, ma anche a Barcellona di fecondazione assistita se non sono gestiti da italiani hanno molti italiani dentro, questo per dire come c'è un flusso molto ipocrita su queste materie su cui facciamo finta spesso di ascoltare. Questa situazione italiana dal 78 è un po' forzata perché ho usato gli aborti clandestini stimati in 100.000 dalla lista di quegli anni, però c'è stato un calo degli aborti di tre quarti, 76%, e un calo della natalità corrispondente di un terzo. Non c'è nessuna relazione in nessun paese al mondo, nonostante storicamente l'aborto è stato sempre considerato un modo per aumentare e diminuire le nascite, tranne l'unico esempio storico che vi viene in mente è la Romagna di Ceausescu, dove in effetti c'è stato un aumento di nascita dopo la diversità di aborti, c'è stato un grossissimo aumento di aborti clandestini dopo e le romene hanno avuto per molto tempo una mentalità abortista perché erano abituate a risolvere con l'aborto qualunque problema che venisse fuori. Questo per dire che tutte le volte si tende ad usare gli aspetti demografici con l'aborto, non sono stati mai risolti in nessun paese al mondo e poi lo vedremo meglio. Questa è la situazione dell'82 perché l'82 è l'anno in cui c'è il massimo numero di aborti in Italia, le certificazioni ISTAT di cui gran parte sono sbagliate, vengono fatte male, devo correggere tutti i giorni al Sant'Anna, in giro si perdono un bel po', però uno dei pochi dati sicuri è il numero di aborti perché comunque l'errore al massimo è lo stesso negli anni, quindi in questo modo. Anche qua abbiamo il 64% riduzione degli aborti e il 25% dall'82 riduzione delle nascite. Ovvio c'è una situazione regionale molto diversa che poi vedremo dopo. Questo è il Piemonte, siamo al 70% riduzione dall'82 e il 13% riduzione delle nascite, quindi in Piemonte le nascite sono ridotte meno della media nazionale, cosa che invece molte volte tutti pensano al contrario perché siamo in una regione molto vecchia, dove siamo invecchiati anche molto, questo altro discorso. Natalità, questo la metto sempre perché basta vedere la storia del paese, quando si era più poveri si facevano più figli, quando si stava bene si facevano più figli, quando c'è stato il benessere anni 60, 70 e 80 sono calate drasticamente il grado di dare, perché quando stai meglio fai meno figli e poi quando stai molto meglio li fa di nuovo. Tanto è vero che la mortalità è messa per confronto e i picchi corrispondenti alla prima guerra mondiale, tutti pensano siano legati alla prima guerra mondiale, in realtà è poco dopo essere legati alla spagnola, in un senso medio conviene dirlo perché altrimenti c'è un equivoco, mentre alla seconda guerra mondiale sono più legati alla seconda guerra mondiale e questa è la situazione attuale in cui in Italia i morti sono maggiori rispetto a in attimo, questo vale, compresi gli stranieri e tutte le cose. Questa è la situazione dal 1946, dal dopoguerra, anche qua solo per sfatare alcuni dei comuni, la 194 non ha modificato nulla della tendenza dell'epoca, ovvio non potremmo sapere come sarebbe stata, ma non ha modificato nulla, il punto massimo di tre figli per donna l'avevamo nel primo dopoguerra, il baby boom è inferiore a quello del 1946 quando c'era proprio quelle pezze da tutte le parti e chiaramente dopo il baby boom che è nel 62-64 che è la generazione che adesso è quella che non ha fatto figli tra parentesi, è la generazione che non ha fatto figli per cui oggi le ventenni ma anche i ventenni sono numericamente la metà dei cinquantenni, adesso non ho messo forse la piramide però è così e su questo, nonostante, compresi gli stranieri, c'è compresi le ragazze straniere e i maschi stranieri in Italia. Questo vabbè semplicemente per 32-30 anni, 31 anni, le due fasce d'età non cambia granché, anche qua sono aumentate le rinascite sopra i 30 anni ma sono diminuite quelle sotto, complessivamente non sono cambiate molto sopra i 30 anni, noi ne vediamo di più perché vediamo meno parte e meno altre ma però questo è secondario. Qui semplicemente per far vedere come sommando gli abolti, linea rossa, i nati, linea blu e la linea verde totale c'è un calo delle gravidanze che è legato uno al calo demografico delle donne in età feconda, due a una maggior consapevolezza contraccettiva perché quando gli abolti, non solo come numero assoluto, questa situazione più vicina, ma anche come numero di abolti per donna e rapporto abolti di natalità sono scesi e di tre quarti siamo passati, è ovvio che in un paese in cui rimanano gli abolti spontanei ma non cambia molto, la contraccezione è considerata una cosa quasi sconosciuta, cosa che poi non è così vero e siamo campioni di sessualità in giro per il mondo, ci riteniamo, siamo il paese che fa meno aborti, meno nati e evidentemente facciamo meno sesso, questa è una conseguenza abbastanza logica, gli svedesi, lo dico sempre, che fanno un quarto di d'ascita in più di noi, hanno più del doppio di aborti e hanno, in Svezia a 40 anni ti fanno la regalizzazione tubarica tutte, anche prima, la Francia che è considerata ormai il mito in tutte le discussioni di quale tipo, fa più o meno un terzo di d'ascita in più di noi e fa due volte e mezzo gli aborti nostri, cioè dove si fanno più, tranne pochi paesi, poi c'è l'Olanda che invece al contrario sono più o meno stabili, la Germania è come noi, però dove si fanno più nati, si fanno anche più aborti, si rimane più incinta e ovviamente poi si decide cosa fare. Andando avanti velocemente, tasso fertilità dei paesi europei, questo per dimostrare come, vedete il collo c'è stato dappertutto, il verde chiaro è l'Olanda, il resto sono gli altri paesi e ci sono paesi cattolici dove l'aborto è avvietato dal 60 tuttora come l'Olanda o fino a poco tempo fa come il Portogallo o tuttora come la Polonia e Malta e vedete che la tendenza alla natalità, il tasso di fertilità a fili per donna è crollato ugualmente sia nei paesi in cui l'aborto era legale sia nei paesi in cui l'aborto era illegale. Uno può dirmi che gli aborti ci sono anche dove è illegale, è vero, però evidentemente le dinamiche per cui si fanno scelte riproduttive non sono semplicemente posto o non posso abortire, ma sono dovute tantissime altre considerazioni e nei paesi occidentali, ho messo anche negli Stati Uniti per crescimenti, per capire un pochettino, ma non cambia neanche. Quindi non c'è un rapporto tra natalità e aborti, e i WGs particolari, nonostante molte polemiche dicono che non ci fosse l'aborto e 5 milioni di nati in più in questi anni. Guardate la mia esperienza ormai trentennale è che chi fa l'aborto a 20 anni fa i figli a 30, chi fa il figlio a 20 anni fa l'aborto a 30. Poi l'aborto è sempre uno, due nella propria vita, ormai siamo a meno di una donna su tre che farà un aborto nella sua vita riproduttiva, negli anni 70 era più di due donne su tre che avevano fatto un aborto, questo dimostra come la sensibilità popolare fosse diversa allora. All'epoca tutti avevano un esperienza di aborto, due donne su tre vuol dire che attorno c'è un marito, c'è un compagno, c'è una famiglia che aiutava a fare l'aborto clandestino, questo era chiaro. Oggi una donna su tre vuol dire che la strada di maggioranza pensa di essere immune, che capiti solo alle sprovedute a quelli che non le fanno. Io dico sempre il problema per me più grave non è la ragazzina, è la quarantenne che ha figli adulti che ha sempre pensato fino a quell'età che capitasse alle sprovedute e non a lei ed è un dramma perché non lo puoi neanche dire alla migliore amica perché la risposta è non ho ancora imparato come si fa. Questa è ovviamente la cosa. E' la 2486, vabbè è molto semplice, la questione è chiusa, dovrebbe essere chiusa in realtà non è chiusa, ormai in Italia è dal 2010 che c'è, questo per dire che si usa in tutti i tipi di aborto, volontari e spontanei e facilita tutte le tecniche abortive, medie chirurgiche. Questa è mutuata da una famosa depositiva del Royal College, l'ho rimessa un po' posto ma sostanzialmente riproduce questo meccanismo. Mifepristone ha provato solo per far vedere che in Italia siamo arrivati con 20 anni di ritardo, 20 anni di ritardo rispetto ai paesi europei. Poi oggi questa distribuzione del Mifepristone che riproduce bene o mai la cartina dell'aborto. Breve aneddoto sulla questione, quando cominciato nel 2000 e a sorpresa uscì una pagina nata sulla stampa con il professor Campogrande e il professor Massorbio che si siano favorevoli e da lì si partì tutto, nel senso che io mi aspettavo una risposta così. Nel 99, l'anno precedente, l'ex Elgine aveva chiesto il mutuo riconoscimento in tutti i paesi della comunità europea, tranne Malta, Italia, dei paesi in cui era vietato e aveva messo l'Italia. Quando andai a Parigi, approfittando di un weekend con la famiglia e arrivai da Elgine a dire ma perché avete fatto questo? Mi ha detto political reason e poi che il governo aveva detto quello. Era il ministro Rosibindi e il governo aveva spiegato, come ha spiegato a me e hanno tentato di spiegarmi per tanti anni, che la legge 194 vietava l'aborto medico e vietava tutta la questione eccetera. Cosa che non era palesemente vera, tanto è vero che la vicenda giudiziaria del Sant'Anna, quella con Campogrande e Massorbio e il compianto Tottor Mascherpa, che poi è deceduto per un incidente, è stata archiviata in fase struttoria e la stessa cosa è accaduta al Buzzi di Milano quando utilizzarono il metodo exata al posto dell'arreo, dell'arbre di Fabistone, cosa che volevo fare anch'io e Campogrande temeva che partissi di iniziativa quando lui era in vacanza o era assente dalla questione e fu archiviato pure in quel caso al Buzzi di Milano. Qui la tendenza attuale del numero non è altissima, guardate che in Inghilterra per arrivare a livelli del 60% ci hanno messo 30 anni, molti anni e per 15 anni non era più di 10-12% l'uso. In Scozia è arrivato subito a due terzi, a parte che la Scozia fa 5.000 volte all'anno, è una più piccola però, per dire che è una questione organizzativa di come poni le cose, non è tanto la questione, qui la percentuale che non cambia anche come situazione, qui a Sant'Anna giusto una slide per far capire come non è la situazione nazionale, ma a Sant'Anna praticamente il 28% del 2013, il 21% tra aborti spontanei e WG del 2013 e il 27% confermato nel 2017 entra Sant'Anna al problema abortivo, cioè più di una donna su quattro, o i WG o aborti interno, o altre ricoverate, non sono ricoverate queste. Questo per dire come un'azienda come Sant'Anna non ha mai potuto eludere la questione, perché comunque fa parte anche un quarto di ricoveri, vuol dire personale, entrate e attività insomma. In questo momento a Sant'Anna, prima all'8.2, il 12,4% di tutte le ricoverate ovviamente, chi entra per altri problemi no, assume l'errore 46. Siamo arrivati ormai a, oltre 11.000 a casi, perché qui siamo al 31 dicembre, di somministrazioni, problemi gravi li abbiamo mai avuti, abbiamo avuto un problema di un decesso al Maltini, ma una situazione molto particolare, eccezionale. Faccio notare che quando morì quella donna al Maltini, qui dopo un aborto medico, contemporaneamente sono molte altre due donne per raschiamenti, un IVG e un aborto interno in Italia, nessuno ne parlava. Questo per dire che sono pochissimi le morti in 40 anni, perché sono procedure molto sicure, però ovviamente le polemiche vengono fuori quando vengono fatte. Come vedete noi utilizziamo l'errore 46 nelle IVG, negli aborti interni, anzi grazie all'aborto interno ho cominciato a fare dei hospital rinunciando al ricovero obbligatorio che in Piemonte è ancora per tre giorni, ma nessuno lo fa. Questo per dire come ci sono grida manzoniane che noi pensiamo sia la legge e poi dopo non rispettiamo e non facciamo, rispettando la legge ovviamente. Tutti i aborti del secondo trimestre, sia medici che chirurgici, curiosità, io che passo per quello che ha promosso l'aborto medico nel primo trimestre, a prime sette settimane eccetera, sono quello che ha iniziato anche in Italia a fare i aborti chirurgici del secondo trimestre con una certa regolarità, cosa che fa tutto il mondo, mentre da noi la norma è fare l'induzione del travaglio abortivo eccetera. Da quando c'è l'RU è cambiato da così a così completamente, i tempi, le modalità, tutto e poi particolari sono chiaramente spesso chirurgiche non riuscite, gravidanza angolare, cervicali, ma avere risparmio, questo era solo per dare dimensione. Rapporto IVG mediche chirurgiche fino a 90 giorni, tenendo presente che però quelle mediche le facciamo fino a sette settimane è qualcosa ormai, siamo arrivati a un livello di saturazione difficile perché abbiamo i aborti interni, siamo arrivati a oltre 2000 l'anno scorso e questo è l'andamento tra aborto chirurgico e aborto medico al Sant'Anna, siamo passati in pochi anni da 10 sedute operatori settimanali a 4 sedute operatorie. Ovviamente l'azienda ci rimette economicamente perché per ogni intervento medico prendiamo mediamente 500 euro, 600 al massimo, per quello chirurgico in Italia sono molto ben pagati, paghiamo 1100 euro perché c'è il monopolio. Con 600 euro andate nella miglior clinica svizzera ad abortire, in Europa, qui 1100 euro la regione ci dà per quelli chirurgici. Ovviamente di 10 sedute risparmiando anestesisti eccetera non c'è stato un aumento di altre cose ma semplicemente si fa meno sedute operatorie e basta. Obiezione di coscienza, quindi io sul precedente, non ne sono finito qua ma non dico più nulla perché l'errore ormai è, c'è una slide dopo forse sulla distribuzione regionale ma quando arriva le conclusioni. Obiezione di coscienza, ricordo sempre, obiezione di coscienza c'è il servizio militare, l'ho messo in blu perché è la prima, l'introduzione di gravidanza, la sperimentazione animale prevista persino per gli studenti, il clima degli anni 93 era quello probabilmente e la medicina di riproduzione sarebbe, non mi piace mettere i PMA perché proiecazione medicalmente assistita è una visione ideologica per me insopportabile, insomma quindi ho riportato la definizione che è l'unica che ho trovato nelle nostre leggi, poi ci saranno sicuramente altri, mi smenteranno, che è quella della legge del 72 che l'obiezione di coscienza la definisce i motivi di coscienza adotti per il servizio militare, debbono essere attinenti a una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi, filosofici o morali, professati a soggetto, che vale per tutto. Io sono favorevole all'obiezione di coscienza, lo dico ovviamente, tutte le battaglie per abolirla eccetera ritengo diretto guardia è una roba contro, a parte il codice ideontologico per cui dal punto di vista giocare in caso dovrebbe essere facile, ma contro qualsiasi paese al mondo, contro ogni corte internazionale, gli unici paesi che vengono citati in questi casi quando mi dicono no però nel mondo è la Svezia, che c'entra a conoscere poi la realtà svedese dove è diversa, dove sì i ginecologi sono tutti non obiettori, non ce l'obiezione, chi non vuole fare la volta non li fa, ma è così normale, anche a Sant'Anna siamo in 31 adesso a farli 24, me basterebbero 10, perché venire a fare un turn al mese, guardate che è la cosa peggiore di sto mondo da fare una cosa un turn al mese, vuol dire che non te ne occupi, arrivi lì, quello devo fare oggi e te ne vai. Questo è il modo in cui in Italia si è affrontata la questione un po' dappertutto, sia dove funziona come in noi, sia dove funziona meno come in altri. Questa tua definizione è calza perfettamente, anche perché è ripresa dalle dichiarazioni dite l'Università dell'Uomo, tutte cose che ormai da 70 anni definiscono la materia a livello internazionale, almeno nei paesi occidentali, poi dopo vi dicendo. Questa è la situazione italiana, curiosamente riproduce esattamente il disinteresse sulla materia che c'è stata per 20 anni, qui siamo nella situazione del Piemonte che è sostanzialmente uguale, quest'anno siamo 439 nel 2016 con 157 non obiettori, 157 obiettori sono tantissimi, per dire che dovessimo lì, questa è la situazione, la situazione nazionale regione per regione, come vedete attualmente con 1481 ginecologi vuol dire che la media nazionale è 57 abolti all'anno per il ginecologo. Pensare che un'azienda Italia dovendo definire 57 abolti per singolo una settimana, non si è in grado di organizzarli, è impensabile. Ogni regione ha i suoi difetti, in Piemonte è 43, abbiamo regioni fortunate e altre no, siamo ovviamente in Molise 1 su 32, perché poi nelle piccole regioni il numero è definito. Allora, sull'arrivazione di coscienza non esistono dati su, guardate, maschi femmine, età, nulla, ospedale per ospedale, in Piemonte io non so quali sono i ginecologi per ospedale per ospedale, so che a Cirie non c'è nessuno, tutti obiettori, so che in altri posti sono due, so che a Mauriziano sono tantissimi e come a Osta, a Osta sono 13 non obiettori su 15, fanno meno di 200 volte all'anno, se li facessero mille sarebbe il contrario e nonostante questo il sabato all'America non li fanno, li mandano a Sant'Anna. Per dire come la questione molto, non è così facile, come vedete il sud, lo metto qua, e chiaramente c'è una differenza nettissima di disinteresse totale, che lo si vede anche dal numero di obiettori e lo si vede soprattutto dall'andamento, adesso qui è un po' confusa ma dal 97 in poi, regione per regione, a parte la Val d'Osta in basso, le regioni altrate e come vedete le linee dritte della campagna vuol dire che per tantissimi anni, fino al 2005, davano il dato del 99, poi adesso continua a dare il dato del 2012, allora che la campagna non sia in grado di organizzare nei suoi 80 punti ostetrici il censimento obiettori e obiettori, che saranno 600 in tutto, e fa capire quanto disinteresse ci sia sulla questione. Questo è semplicemente un rapporto più grosso, vado avanti, qui siamo 2012-2016 perché poi la polemica è in discussione attuale, le regioni in blu hanno avuto un rapporto a ribasso di non obiettori IVG, il Piemonte siamo passati da 59 per il ginecologo a 43 nel 2016, le regioni in rosso sono aumentate, ci sono dinamiche che vanno da ospedale all'ospedale perché se io ho due turni cosa faccio? Obiettori, tanto faccio cosa voglio, non c'è nessuna radicolazione, però manca proprio la capacità regionale delle aziende di organizzare i servizi e la non volontà di cui ho aggiunta. Faccio notare che, questo lo so esattamente, che se la media italiana è di 57 IVG per il ginecologo, la media dei dati è di 72 nati per il ginecologo. Io non faccio polemiche sul fannumeri perché uno dice come? Ogni ginecologo fa un palto al mese, a settimana, poco di più, sì, è così. A Sant'Anna facciamo 100 a testa di media, facciamo anche 100 passaporti. Aborto farmacologico detto prima per vedere le differenze regionali, questo è un paese in cui ha la 194 è diversa da regione a regione e di competenza della regione, mentre la polemica si tende sempre a farla col ministero che ha nessuna competenza particolare, tanto è vero che abbiamo regioni come il Piemonte dove la 246 è utilizzata al 38%, la Liguria 41, l'Emilia 29, la Toscana 25, il Lazio 19, più recentemente ha cominciato ma sta recuperando, ma perché anche lì c'è un grosso centro del San Camillo che ne fa tantissimi e c'è la Puglia 21. Le altre regioni hanno situazioni simboliche o non se ne occupano. Per chiudere, arrivo alle conclusioni, questa è la situazione del Piemonte, la linea blu sono le WG del Piemonte, la linea rossa e quella del Sant'Anna che sono più o meno rimaste stabili nonostante il calo molto netto che vedete, questo è negli ultimi 20 anni, questo ha fatto sì che oggi, questa è la situazione del Piemonte nati e i WG dal 1998 a oggi per capire come non è cambiato molto rispetto alle grandi cose e questa è la situazione delle WG in Piemonte ospedale e torospedale 2016. Come vedete il Sant'Anna copre il 47% del Piemonte, il 76% della provincia di Torino e il 90% di Torino. Abbiamo ospedali come il Mauriziano che ha fatto, nonostante il Mauriziano è l'ospedale che ha più non obiettori. Possiamo lasciare i numeri casomai alla discussione? Ma sto finendo, scusa, non è che mi interrompi adesso. Perché è ora? Sì, è per tutti infatti però. Come? Sì, sì, per quello che poi avremo. Finendo. Il 93% è l'ospedale Mauriziano che fa Maria Vittoria 112, il Maltì 254 per stare a Torino. Allora, è chiaro che funziona, come anche in altre regioni, posso fare molti esempi, regioni per regioni, dove c'è un servizio che copre il territorio. Sant'Anna storicamente copre almeno la provincia di Torino e tutto quanto e dove c'è un reparto dedicato, c'è, come si chiama, un reparto dedicato, c'è dei letti, le donne non sono messe nei reparti se non per l'ETG, c'è un responsabile, tutta la sedicola c'è un ufficio di prenotazione che è tutti i giorni e quindi questo fa sì che le donne vengano malmente. C'è qui il dottor Gallo che è primario da Ciriè, Ciriè non fa aborti perché sono tutti obiettori, le donne del Calavese vengono a Sant'Anna senza problemi mandate da loro anche talmente perché sanno che hanno un'assistenza e noi con loro abbiamo un rapporto di collaborazione. Non è necessario fare i aborti dappertutto e prendersi con qualche dono. Si tratta di organizzare i servizi, cosa che in 40 anni non si è mai fatto? Organizzare i servizi come si farebbe per qualsiasi, dico per le tonsille piuttosto che per altro. Chiudo con un esempio molto banale, quando abbiamo cominciato con l'RU e qui Storaci ci bloccò con il vicenda giudiziaria eccetera, in Italia spontaneamente De Blasi a Parma, Bari, Arisi a Trento, De Callo credo a Delemarc, Dancona, Sreboto a Pontedera, Melega, Bologna, tutti maschi peraltro, cominciarono a dire cosa facciamo, hanno cominciato a farlo, importando di volta in volta. In quegli anni io ho sempre stato molto riconoscente a questi colleghi che rischiando in proprio e litigando hanno cominciato a fare l'RU pochi casi, mille all'anno in tutto. Però c'è un esempio, Sreboto andava a sdoganare lui all'aeroporto, approfittando che Pontedera è vicino all'aeroporto, le scatole, perché se no gli arrivavano settimana dopo, questo per dire che se si affronta un problema non si affronta, io credo che per parlare di 194 si può parlare delle cose ideologiche, gli obiettori, cosa faccio io, cosa farei, non lo so, bisogna partire dai numeri e dalla realtà e se in questi anni gli avvolti sono calati, sono stati fatti e in qualche modo l'eroporto è stata fatta eccetera, vuol dire che qualcosa funziona a macchia di loporto, bisogna farla funzionare ed è responsabilità delle regioni, delle assessori regionali e dei dirigenti delle aziende sanitarie, che oggi sono grosse, hanno ospedali e territorio e devono occuparsi e organizzare il servizio, unico per l'azienda, diversi per regione, non c'è bisogno di fare l'aborto dappertutto, nessuno di noi va a farsi operare il femore in qualsiasi ospedale capita, ma sceglie dove andare.